musica 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 mamma mia che palle cioè ma fanno un po' un cazzo tira un po' ma non so più che me corrono della volta c'erano davvero suzzi ma non ti unghie suzzi scedroni in figa, bisogna vedere nell'occhi in culare c'erano proprio un bel film suzzi no te prego sempre lui stavo meglio prima che c'era in casa mia? io l'ho sentito voi quando esprimete un desiderio compaglio io come il genere della lampada si si voi quando avete un finzozzo un finzozzo un tipo di sporco un tipo di sporco sicuri? un tipo di sporco e zuzzo un tipo di zuzzo e sporco volevamo ma questo tipo di è sporchissimo da sicuro poco di sottina zuzzeria zuzzo è merda zuzzo è zuzzo ma questa è merda ma che cazzo aveva portato? ma che cazzo aveva portato? guarda, provo a assaggiarla, è merda fidate è zuzzo un tipo di zuzzo un tipo di zuzzo un tipo di zuzzo un tipo di zuzzo di questo ma che cazzo vuoi? tu mi hai chiesto un tipo di zuzzo e l'ho portato? e ve lo aveva spegnito niente di te pure oggi hai capito zuzzo? non si guarda il porno te volevi vedere un tipo di zuzzo e io ho fatto vedere questo guarda che zuzzeria è una merdata questo tipo di zuzzo se vuoi poi vedete speriamo che hanno capito avete capito la lezione? io ho capito ogni volta che siete con una pippa ci siete in mezzo di coglioni voi ripetete con me non si guarda il porno non si guarda il porno si guarda il porno e va demoralizzando l'altra parte manco i pippa loro sono stati demoralizzati ufficialmente bella zuzzo un coglioni si sai piaci a cliccare se ancora non lo sai pongo un coglione più luna è sta gran scienza stare senza un ruto non può solo sta senza siamo proprio folli siamo proprio pazzi non ci senti su Twitter io ti dico sti gran cazzi siamo volgari e per questo che piacciamo iscriviti al canale noi vi aspettiamo non ci senti